Curva la colonna vertebrale dietro, chiudi la testa, svuota la pancia, tirati forte con le ginocchia. Percepisci che stai cascando dietro, svuotando la pancia. Torna dritta completamente. Sposta il bacino dietro, le spalle dietro, la testa dietro, inarca completamente la schiena. Torna dritta, abbassa la testa, le spalle e il collo. La testa va verso le ginocchia, vai avanti ora. Ora vai avanti, chiuditi curvando. Sali curvando completamente dritta. Ora vai avanti con la pancia, lo stomaco, il petto. Giù, chiudi la testa, espira l'aria. Solleva la testa, stendi la colonna vertebrale. Sali con la schiena completamente dritta. Piega la colonna vertebrale a destra e spira l'aria. Schiaccia bene i glutei. Torna, piega a sinistra e spira l'aria. Torna, gira a destra, prenditi il ginocchio, gira, blocca il bacino, le ginocchia non si spostano. Cambia dall'altra parte, crescendo, espira l'aria. Torna avanti, completamente dritta, la colonna vertebrale cresce, alza la gamba, via. 1, martello, 2, l'aria fuori, 3, benissimo, 4, 5, 6, 7, rimani su, schiaccia ring. 1, 2, le spalle basse, 3, la pancia dentro, 4, le braccia stese, 5, 6, 7, 8. Piega la gamba, agganciati avampiede, preparati la posizione. La colonna vertebrale dritta, la pancia dentro, stendi la gamba 8 volte, fuori l'aria, la piega più su che puoi. 2, inspira, 3, la schiena dritta, 4, inspira, 5, benissimo, 6, inspira, 7, le spalle basse, rimani su, 8 volte tira la gamba verso la fronte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più su che puoi, piega la gamba, appoggia il piede, stop. Dritta la colonna vertebrale, i gomiti vanno a toccare il ginocchio destro, giù, giù la testa, 1, torna, sinistra, 2, torna, 3, schiaccia bene i glutei, 4, torna, 5, torna, 6, torna, 7, vai, 8, stop. Apri le braccia, le mani più su possibile, alza la testa, dritta, vai dietro completamente dritta, l'aria fuori, 1, schiacciando il ring, l'aria fuori, 2, la schiena dritta, la pancia dentro, l'aria fuori, 3, schiacciamo bene i piedi, 4, non muovere il bacino, 5, non muovere dritta la schiena, 6, meglio, 7, vai, 8, la colonna vertebrale cresce, piede a martello, le gambe stese, alza le braccia 8 volte su, l'aria fuori, 1, torna inspirando, 2, non alziamo le spalle, vai, 3, l'aria fuori, torna, 4, torna, schiaccia martello, 5, torna, 6, torna, 7, vai, rimani su, allarga il ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai avanti, giù, l'aria fuori, 1, sali crescendo su, dritta, l'aria fuori, 2, sali crescendo dritta, l'aria fuori, 3, piedi spingano, martello, dritta, aumenta, 4, l'aria fuori, sali crescendo, la pancia è dentro, stira, 5, schiaccia bene i glutei, alzati le spalle basse, la pancia è dentro, 6, aumenta, sali, abbassa le spalle, la pancia è dentro, 4, cresci, 7, l'aria fuori, sali e cresci, ultima, l'aria fuori, 8, sali crescendo dritta, stop, sulle braccia, 1, unisci le mani insieme, piegati a destra, torna, torna, piega a sinistra, torna, vai avanti, più lontana possibile, prenditi le caviglie, chiuditi, espirando l'aria, solleva la testa, stendi la colonna vertebrale, sali, ok, le braccia dietro, le spalle dietro, la testa dietro, il bacino avanti, espira l'aria, torna completamente dritta, solleva le braccia, prendi l'altro gomito, stringi i glutei, risucchia la pancia, abbassa le spalle, chiudi le scapole, vai a destra, non muovi il bacino, a sinistra, vai, sempre più alta, gira a sinistra, di più, gira a destra, di più, torna dritta, vai dietro, 1, e vai avanti, più lontana possibile, butta fuori l'aria, solleva la testa, testa, stendi la colonna vertebrale, dritta, stringi i glutei, solleva le braccia, apri le braccia e rilassa completamente la posizione, abbiamo due gambe chiuse insieme, ma ring, l'abbiamo appoggiato con la spugnetta contro la gamba sinistra e contro la fronte, andiamo a stendere la gamba destra, via l'aria fuori, 1, torniamo inspirare, 2, torniamo inspira, 3, torniamo inspira, 4, torniamo, 5, inspira, 6, inspira, 7, inspira, stop, alziamola, fuori l'aria, fuori l'aria, inspira, 2, inspira, 3, inspira, 4, bene, 5, percepiamo la colonna vertebrale, 6, inspira, 6, inspira, 7, inspira, 8, stop, appoggiamo bene la colonna vertebrale, le spalle basse, prendiamo ring più su possibile, tiriamo la gamba 8 volte, 1, inspira, 2, inspira, 3, inspira, 4, 5, 6, l'aria fuori, 7, stop, apri il ginocchio destro, apri il braccio destro, bene, apri 8 volte la gamba sinistra, fuori l'aria, fuori l'aria, torna inspira, 2, torna inspira, 3, l'aria fuori, torna inspira, 4, torna inspira, 5, inspira, 6, inspira, al bacino, fermo, benissimo, 7, attenzione, apri, stop, stendi 8 volte la gamba destra, martello, aprila, 1, di più che puoi, più su, vai, 2, ancora se si può, 3, vai così, 4, inspira, 5, inspira, 6, percepiamo ben appoggio della colonna vertebrale, 7, ultima, 8, vai, gira il piede, appoggia, prendi ring con due mani, fai ancora stretch, abbiamo due piedi dentro ring, al te dove c'è la spugnetta, la caviglia, due piedi a ballerina, se possiamo alziamo il braccio e andiamo aprire due gambe schiacciando ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allarghiamo, 7, 8, alziamo due gambe, 1, giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggiamo il braccio, piedi a martello, sulle gambe, pieghiamo dietro, 8, stendiamo, 7, stendiamo, 6, inspira, 5, inspira, 4, ancora, 3, la respirazione, 2, 1, due piedi a ballerina abbassiamo, la gamba destra scavalca, metti sopra, stop, la gamba destra due piedi a ballerina, gira la mano, schiaccia ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esuchiamo la pancia, 8, sale la gamba di sotto, tocca, inspira, 1, 2, inspira, 3, vai, 4, proviamo a toccare, 5, chiudiamo due gambe insieme, 6, ancora, 7, vai, 8, stop! La schiena dritta, allarghiamo ring, piedi a martello, le gambe stese, le spalle basse, la pancia è dentro, apri le braccia, 1, chiudi, solleva verso il cielo, su, su, abbassa, vai a prenderti i piedi, chiuditi, forte, sdraiati dietro, le braccia stese, vai dietro, 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 le braccia dietro, solleva le gambe, stop! Le gambe vanno dietro, espira l'aria, torna ogni anello, appoggia la colonna vertebrale 90 gradi, allarga ring, abbassa le gambe, allarga ring giù, solleva le braccia, alza la testa, mettiti a sedere perfettamente dritta, abbiamo ring sotto la pancia con una spugnetta, le gambe aperte come larghezza delle spalle, le braccia aperte come larghezza delle spalle, attiviamo molto addominali, il collo è lungo ma è rilassato, prepariamo la gamba destra dietro, alzeremo la gamba destra, apriremo il braccio sinistro, via, 1, inspira, 2, non mandare il braccio dietro, 3, ok? Chiudi la scapola, 4, vai, 5, non mandare il braccio dietro, 6, la scapola chiusa, 7, vai, rimani su, piega la gamba, piega il braccio, 1, stendi, 2, stendi, 3, l'aria fuori, stendi, 4, ancora, 5, stendi, 6, ancora, 7, vai, stop, stendi la gamba giù, abbassala, bene, ruota, ballerina al piede, ruota verso il braccio destro, 1, torna dritta, 2, l'aria fuori, dritta, 3, gira, 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 4, inspira, 5, vai, 6, l'aria fuori, vai, 7, vai, 8, appoggia la mano, prepara, allarga bene le braccia come le spalle, ricordati di avere il collo lungo, vai giù, via, sulla gamba, 1, abbassa la gamba, via, 2, non muovere il collo, 3, chiudi le scapole, alza la gamba, 4, chiudi le scapole, collo lungo, 5, collo lungo, respira, 6, più sulla gamba se possibile, 7, ultima volta, 8, stop! La colonna vertebrale cresce, questa posizione l'ho creata io, sono la prima nel mondo tantissimi anni fa, le spalle basse, la pancia dentro, la colonna vertebrale cresce, giriamo a destra crescendo, a sinistra, 2, a destra, lascia la testa, 3, gira il busto, 4, gira la umela lampadina, vai, 5, cerca di crescere, vai, 6, cresci, vai, 7, cresci, vai più dietro, ring, 8, vai, dritta, piegati a destra, 1, schiaccia bene i glutei, a sinistra, 2, alza la testa, il mento, 3, ok, 4, vai, 5, schiaccia bene i glutei, 6, vai, 7, alza la testa, 8, completamente dritta, spingi ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Grazie a tutti.